è clamoroso Alessandra e Gabriella scappano dalla città si vanno a rifugiare sui monti qui non si sa dove e Gabriella allora ci lasci decisione definitiva si si tra due giorni due giorni torno in Brasile oh ti spiace dai classico abbigliamento classico abbigliamento per trekking Alessandra allora queste foto quando rilaspera che valga la pena perché perché sarà una foto che si ricorderanno per i secoli esatto penso che le lascio lì tutta la vita